Se cerchi la bontà e la freschezza di un gelato artigianale preparato all'istante, grazie alla tecnologia Ice Roll, l'indirizzo giusto è benessere in frutta. Viale Cassitto, Avellino. Segnalare dal basso per migliorare il servizio sanitario, tutelare i diritti di chi soffre, non in contrapposizione con le realtà sanitarie e territoriali, ma camminando insieme nel rispetto dei piani di rientro, ma anche delle esigenze di cura personale. Questi sono alcuni degli obiettivi del Tribunale e dei diritti del malato, che grazie alla collaborazione tra Cittadinanza Attiva, Montefalcione, Avellino, Bassa, Irpinia e l'azienda sanitaria Moscati, ha visto nascere la sua sede all'interno della struttura di Contrada Moretta, inaugurata sabato pomeriggio. Un segnale di dialogo tra chi cura e chi ambisce ad essere curato, un legame tra il concetto di cura e prendersi cura, così come ha sottolineato Sua Eccellenza il Vescovo di Avellino, Arturo Aiello, presente all'iniziativa. Grande la soddisfazione e anche un po' di commozione per gli addetti ai lavori presenti all'inaugurazione. Proprio nei momenti in cui sembra che i diritti, i diritti del malato, i diritti relativi alla salute, possano essere messi in discussione magari per problemi di budget, per problemi strutturali o organizzativi, è importante invece ribadire che i presidi per la tutela di questi diritti non solo rimangono, ma vengono anche aperti. Questo è un bel messaggio. Tante volte noi vediamo che le istituzioni sembrano temere il nostro ruolo, invece il messaggio di oggi è veramente un messaggio positivo perché l'azienda ospedaliera ha proprio sentito l'esigenza di migliorare le sue prestazioni inserendo al proprio interno, accogliendo al proprio interno una sede del Tribunale per i diritti del malato. Il Tribunale per i diritti del malato ha come compito quello di tutelare i diritti del malato, quello di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella tutela dei diritti e speriamo che sia questa l'occasione anche per attrarre giovani cittadini della nostra comunità qui ad Avellino nella tutela dei diritti. È sicuramente un momento importante, potrà essere una risorsa fondamentale in questa fase anche per le istituzioni perché oggi più che mai c'è bisogno di sostenere le istituzioni nel cercare di trovare le modalità per coniugare l'equilibrio di bilancio, quindi il pareggio di bilancio che è sempre più pressante grazie ai tagli che vengono ogni anno fatti a livello nazionale sul Servizio Sanitario Nazionale e grazie anche al fatto che purtroppo qui c'è un piano di rientro che è massagrante per i diritti dei cittadini e la garanzia dei diritti. Onorevole D'Agostino, una giornata importante per l'Irpinia, per i moscati e per i malati e soprattutto per i loro diritti perché il Tribunale per i diritti del malato tutelerà tutte le esigenze dei cittadini che hanno davvero bisogno. So che queste iniziative si stanno facendo in varie zone d'Italia, pare che siano più di 300, sono già insediate e quindi è una cosa bella. È molto più bello che il Direttore Generale del Moscati abbia voluto farla proprio all'interno della città ospedaliera che non vuole essere sicuramente una protesta ma bensì un migliorarsi per quanto riguarda la nostra sanità che è una cosa importante.